Sono 22 anni che questo evento ha vita e la caratteristica e la peculiarità del Natale a Monbaroccio sono proprio le ambientazioni che ci contraddistingue rispetto a tutti gli altri mercatini. Sono ambientazioni create all'interno di spazi vivi sotto case caratteristiche del borgo e abbiamo diverse di ambientazioni. Il nostro cavallo di battaglia è il paesaggio invernale situato in una vecchia filanda. Qui dove ci troviamo adesso è la casa di Babbo Natale che non può mancare per bimbi ma anche per grandi. Il borgo si veste anche di un'altra ambientazione ed è quella del villaggio montano e i pinguini ci aspettano perché è una nuova ambientazione animata da stambecchi ma soprattutto pinguini e orsi polari. Abbiamo un vasto programma di eventi all'interno dell'edizione di Natale a Monbaroccio quest'anno confermata la magica nevicata che avrà una veste un po' diversa, sarà uno spettacolo innovativo quest'anno e poi tanti appuntamenti per i bambini, spettacoli all'interno del teatro. Abbiamo alcune location nuove quest'anno come il giardino degli ignomi, il mercatino di Natale storico e Magiche Atmosfere che è un'ambientazione che già gli anni scorsi avevamo proposto ma quest'anno ha cambiato location e avrà una veste tutta nuova. Finalmente sì, lo faremo fuori dalle restrizioni Covid che purtroppo in questi ultimi anni ci hanno condizionato, lo faremo a pannaggio dei bambini, li aspettiamo numerosi con le loro famiglie per visitare il nostro meraviglioso borgo e per osservare tutte quelle che saranno le novità del Natale di quest'anno, Natale 2022 per il nostro nuovo mercatino che partirà dal prossimo weekend e che sarà pronto a ospitare tantissimi turisti locali e anche fuori regione sicuramente, li aspettiamo numerosi. Io mi permetto di fare ringraziamenti doverosi a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo nuovo mercatino a fronte di una ripartenza che comincia fortunatamente a dare i suoi frutti e quindi tutti i volontari della Proloco, della Presidente, Giugiu, tutti coloro che hanno collaborato, tutti coloro che anche non sono iscritti alla Proloco e che sono prodigati, tutti gli operatori economici che quest'anno torneranno sul territorio augurando loro di poter dare anche riscontro economico con la vendita di quelli che sono veramente le peculiarità di un territorio che ha tanto da offrire non solo a chi ci vive ma anche a chi ci viene a visitare. Quindi veniteci a trovare, bambini in particolar modo perché qui Babbo Natale sta arrivando e quindi vi aspetta a braccia aperte. Il prossimo weekend, il primo weekend di novembre, l'8 dicembre e il weekend successivo del 10 e 11 dicembre.